Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi location leggermente diversa, dico leggermente perché comunque c'è sempre il solito sfondo, perché non avevo il tempo materiale per montare le luci e per mettermi nella solita postazione, quindi ho leggermente girato l'inquadratura per sfruttare la luce naturale che è quella che arriva direttamente dalla finestra, ma al di là di tutte queste premesse volevo condividere con voi la mia spesa copp. Avrete notato che ultimamente sto facendo un pochino più video sulla spesa copp, non tanto perché prima io non andassi a fare la spesa lì, ci andavo lo stesso però magari non facevo il video. Adesso però tutto sommato ho pensato che può essere interessante condividere la spesa non solo dei discount ma anche dei supermercati cosiddetti tradizionali, quelli che comunque non sono considerati discount e soprattutto perché io alla copp trovo sempre un sacco di prodotti che sono ottimi. Quindi sto 10 minuti in vostra compagnia e vi faccio vedere che cosa ho comprato. Cominciamo dalle noci, ho preso due confezioni di noci, queste qui californiane, della marca Copp. Ne ho preso due confezioni da 500 grammi, quindi un chilo di noci. Poi un chilo di farina della marca Vivi Verde Copp di farro. Questa è una tipologia di farina che io ho conosciuto grazie a mia madre che la utilizza quasi quotidianamente, devo dire che mi piace, è molto delicata e sono quelle tipologie di farina un po' particolari che ogni tanto mi piace inserire nell'alimentazione per variare un po' e per non utilizzare sempre la classica farina di grano perché anche una varietà in questo senso secondo me è bene inserirla. Poi una confezione di salsa di noci senza aglio della novella, sempre della novella una confezione di pesto alla genovese senza aglio, senza aglio semplicemente perché io l'aglio lo digerisco poco quindi preferisco le cose senza aglio. Poi sempre della novella una confezione di gnocchi, questi qui freschi che sono veramente ottimi e sono perfetti con il pesto, quindi pesto alla genovese e gnocchi per noi genovesi sono uno di quei piatti classici e tradizionali che amiamo sulla nostra tavola. Poi sempre della marca Vivi Verde Coop quindi biologica ho preso la pasta integrale, questo è il formato mezze maniche che sono quei tortiglioni molto corti diciamo non so come spiegarli comunque questi qua. Poi una confezione di guanti per lavare i piatti della marca Coop, una confezione di detersivo di xan alla lavanda, lo proverò perché sinceramente io questo alla lavanda essendo anche nuovo almeno così c'è scritto sulla confezione non l'ho mai provato, la profumazione alla lavanda a me piace tantissimo spero però che non sia troppo intensa, troppo forte perché poi sa troppo di sapone e non mi piace più però se è delicata sicuramente mi piacerà, l'unico modo per scoprire se mi piace è provarlo, non avevo altri metodi e quindi ho deciso di comprarlo e di provarlo già nel prossimo bucato. Poi una confezione di bastoncini cotonati della Coop, questi servono sempre, si utilizzano sempre. Poi ancora pasta biologica, ho preso solo due pacchi di pasta ma tutte e due biologiche e tutte e due della Vivi Verde Coop, ho preso i tortiglioni di Kamut, volevo provarli in realtà stavo cercando quelli integrali, non li ho trovati, ho pensato di ripiegare sulla farina di Kamut e vediamo come saranno credo che siano buoni perché comunque a me le farine un po' particolari sono sempre piaciute però questi nello specifico io non li ho mai provati quindi è arrivato il momento di provarli poi facciamo un po' di pubblicità gratuita alla Kellox, dico gratuita perché la Kellox non mi paga assolutamente per dire quello che sto per dire ma ho preso questi fiocchi d'avena della Kellox perché secondo me questa è una marca ottima, io credo che sia proprio la migliore marca per quello che riguarda cereali fiocchi d'avena cose di quel genere anche perché io che devo fare attenzione agli ingredienti che sono contenuti all'interno sappiate che i cereali della Kellox sono gli unici cereali che non contengono all'interno degli ingredienti tracce di frutta a guscio invece se voi fate caso a tutte le altre marche e sottomarche solitamente c'è scritto che contengono tracce di frutta a guscio io devo fare particolarmente attenzione non tanto per me ma per un'altra persona alla frutta a guscio e quindi ci faccio molto caso quindi se per caso avete delle intolleranze particolari tenetelo presente perché la Kellox è una marca che non inserisce queste tracce di frutta a guscio quindi io vado sempre su questa marca ripeto la Kellox non mi paga affatto quindi è pubblicità gratuita come sempre perché io faccio sempre pubblicità gratis poi girando tra gli scaffali della copp nel banco frutta e verdura ho notato che erano già arrivate le fave noi genovesi le mangiamo crude queste qui proprio le fave noi come tipologia di alimentazione abbiamo questa cosa delle fave mangiate crude senza cuocerle e sono buonissime ovviamente sono una tipologia di fave che sono adatte per questo scopo e quindi ho deciso di prenderle perché a me piacciono veramente tantissimo poi ho voluto provare questa tipologia di farina è un preparato per pane che ha sia farina integrale che farina di legumi sicuramente una cosa particolare però siccome a me la pasta di legumi piace molto ho deciso di provare anche questa tipologia di farina magari la utilizzerò per fare il pane o per fare una focaccia o per fare la pizza non lo so comunque sicuramente voglio provarla perché sono quelle cose che mi ispirano poi una confezione di marmellata biologica della vivi verde copp ai lamponi sappiate che la marmellata ai lamponi è in assoluto la mia preferita poi una confezione sempre della marca copp di cran caramel questi già pronti due confezioni da mezzo litro di latte io in realtà ne volevo un litro intero però sembra che ci sia stato l'assalto agli scaffali per quanto riguarda il latte perché era introvabile quindi ne ho preso due da mezzo per farne uno poi ho preso una confezione di chewing gum senza zucchero questi qua dei gum che hanno la vitamina c e il fluoro dovrebbe servire anche per lo smalto dei denti per mantenerli bianchi comunque io questi diciamo che ogni tanto mi fa piacere masticarli così anche per sentire il gusto della menta un gusto fresco quindi ogni tanto proprio magari per quei 20 minuti non di più e di solito scelgo questa marca perché la ritengo la migliore almeno è quella che comunque a me personalmente piace di più vi chiedo scusa per i rumori di sottofondo ma i miei vicini di casa hanno deciso di mettersi a chiacchierare davanti alla mia porta come al solito quindi ragazzi vi chiedo scusa abbiate pazienza ma non posso farci niente o li mando via o me li tengo così poi una confezione di svizzere di tacchino della marca Aya sono quelle che personalmente preferisco poi un'altra cosa che mi piace tantissimo e che trovo solo alla copp sono questi bocconcini di pollo che io vado a cuocere di solito con la ricetta che vi avevo fatto vedere in un video quella del pollo alle erbe aromatiche quindi li vado a cuocere con le erbe aromatiche un pochino di vino bianco magari vi lascio la ricetta in info box o nelle schede comunque ve la lascio da qualche parte tanto per farvi capire come lo cucino io comunque mi piace molto poi due confezioni di focaccia alla genovese sapete che per un genovese la focaccia è fondamentale poi ho preso una piccola confezione di pere queste qua piccoline che sono quelle che sicuramente mi piacciono di più pensate che io una volta le pere non potevo neanche vederle in fotografia non mi piacevano per niente non ne volevo sapere e poi da un momento all'altro ho cominciato a mangiare pere e ad apprezzarle quindi le cose strane della vita e poi come ultima cosa una confezione da due chili di mele rosse queste sono mele gala della marca orto qui che io personalmente trovo solo la copp credo che sia proprio una marca della copp correggetemi se sbaglio comunque sono quelle secondo me più buone rispetto a tutte le altre questa era la mia mega spesa copp non ho idea di quanto sia durato questo video comunque spero di avervi fatto passare dieci minuti in compagnia di avervi dato magari qualche consiglio per qualche acquisto per qualche prodotto che magari non conoscevate io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like se il video vi è piaciuto vi mando un bacio enorme